Venerdì inizia un vertice che dovrebbe essere cruciale per il futuro dell'Europa. Quali sono le sue impressioni? Sicuramente è un appuntamento storico molto importante. La mia impressione è che si stia lavorando nella direzione giusta. Il Presidente Conte sta portando avanti negoziati e dialoghi con gli altri Paesi e mi sembra di vedere una certa convergenza rispetto ai punti fondamentali quali per esempio la dotazione finanziaria, la proporzione tra trasferimenti e prestiti e direi che siamo sulla strada giusta. Certo ci sono ancora alcuni Paesi che mostrano alcune reticenze ma io mi aspetto dei buoni risultati. Quindi è fiduciosa? Io sono fiduciosa perché la posta in gioco è molto alta non soltanto rispetto a tutti i cittadini che ovviamente sono la parte più importante nelle nostre intenzioni di tutela ma anche per lo stesso progetto europeo e ci sono molti Stati che secondo me forse non hanno ben compreso il momento storico che stiamo vivendo e credo che tutto sommato potremo andare in quella direzione visti poi gli esiti e il fatto che noi non vogliamo scendere a compromessi e di fronte a una posizione così ferma e determinata dovranno scendere a più miti consigli.